Ciao a tutti, sono Gianluca Italiano, andiamo adesso a vedere un esercizio che è utile per allungare i muscoli pettorali e rinforzare la muscolatura profonda del collo. Ci si mette appoggiati al muro, o se lo straiati a pancia in su, con le gambe leggermente piegate, le ginocchia piegate, i piedi un pochino staccati dal muro, si appoggia la schiena, contro il muro e anche la testa, si allargano le braccia in fuori a 90 gradi, vado ad appoggiare bene i gomiti e anche i polsi. Da questa posizione, lentamente, tenendo la pancia in dentro e schiacciando la schiena contro il muro, vado a scivolare con le braccia in alto fino a dove riesco. Arrivate al massimo, rimango in posizione e faccio dei respiri profondi. Se voglio migliorare anche il controllo della muscolatura del collo, da questa posizione, guardo in alto e porto il mento in fuori, guardo in basso e porto il mento in dentro, facendo il doppio mento. Sempre scivolando con la testa sul muro, mai staccare la testa in avanti. Ok? Gli errori che si fanno più comunemente sono proprio questi. Staccare i gomiti, staccare i polsi o inarcare la schiena. In realtà dobbiamo essere capaci di tenere tutti i controlli. Se questo è il vostro massimo, rimanete così, va benissimo.